Supplemento del video precedente, l'irrealtà del credo è la realtà della Terra piatta. Nonostante le evidenze pratiche che potete fare, ancora avete il coraggio di venire non solo ad insultare ma ad inventare cose che non esistono, tipo l'atmosfera che estende la luce oltre la linea del terminatore. Osservate questa immagine costruita con i dati dei palloni meteo o dai dati delle stazioni a Terra, non dai satelliti come ancora qualcuno crede. Suggerisco di prendere visione attraverso il prezioso indice alfabetico palloni meteo italiani e satelliti by Dino, palloni sonda o meteo by Dino. Quanto vi sembra largo il terminatore? Questa che vedete è l'ombra con lo spostamento del Sole in mezz'ora di tempo. Qui vediamo un'altra immagine, sempre dell'8 luglio, da un altro portale web e sempre realizzata con i dati di regime del sistema, dove si può vedere l'illuminazione del Sole in base ad un'ora prestabilita, in questo caso l'8 luglio alle ore 15 italiane. La riga sottile indica il Sole quando sparisce dietro l'orizzonte, ma come vedete la penombra è indicata prima del tramonto, non solo dopo, come si illude chi ancora crede nel globo. Potete benissimo vedere che la linea del terminatore tange la California e finisce poco dopo il Sri Lanka in India. Ma è ben lontana da Cambogia, Filippine, Cina, eccetera. Visto che stiamo giocando con le immagini grafiche computerizzate, questa volta usiamo il portale della NASA sulla salute del pianeta e provate con la massima fantasia, quella più fervida, anzi quella più fanatica, a credere come su un globo è possibile illuminare tutto come mostrato nelle immagini fasulle del sistema di indottrinamento col quale siamo stati iniettati con delle info assurde fin da piccini. Se inizi a comprendere quanto ci hanno ingannato sul meraviglioso regno che ci ospita, non ti stupirai più nemmeno delle enormi menzogne sulla storia, sulla medicina ed altro ancora. Grazie a tutti.